buonasera a tutti benvenuti al mio spazio spazio che è il punto di giovanni seoling io tratterò di un argomento che ormai come di consueto un argomento che viene sempre trattato meno dai media in generale ed è del mondo del lavoro e del mondo del non lavoro cercando di sviscerare un po' quali sono il panorama del mondo del lavoro che sta cambiando e cambierà ancora e in questa trasmissione vorrei parlare di una cosa che sta passando un po' in sordina e ce la troviamo soprattutto i lavoratori se la trovano a dover fare i conti con i contratti collettivi nazionali di lavoro che si stanno firmando o sono stati firmati si tratta della cosiddetta cosiddetto welfare allora il welfare che verrà trattato che viene trattato è niente meno che una derivazione della vecchia della job act e l'obiettivo soprattutto dello stato che è quella di ridurre drasticamente i soldi che la collettività cioè quindi lo stato viene eroga per la sanità pubblica questo perché questo per ridurre cosiddetto deficit da una parte dall'altra però per incentivare le aziende ad adoperare questo sistema ad operare questo welfare e ridurre anche per ridurre il loro la loro tassazione in pratica questa al duplice obiettivo che è quello di ridurre da una parte la tassazione quindi ridurre il costo di lavoro e l'altro giorno è apparso che il costo sui quotidiani che il costo del lavoro in italia è uno dei più bassi d'europa ma questo non è sufficiente perché si riduce il costo cioè la tassazione sulle aziende si riduce da parte dello stato la tassazione sulle aziende perché così il prezzo del prodotto finale può essere abbassato e quindi può essere competitivo nei confronti delle merci prodotte sempre ad altri lavoratori ma in questo caso sono di un'altra nazione sappiamo che questo è il meccanismo del modo di produzione capitalistico dove ogni azienda produce per se stessa con finalità il mercato e quindi finalità il profitto e non produce in modo rete in modo collettivo quello che serve all'essere umano alle popolazioni del territorio e in modo tale da programmare questa produzione che tutti ci debbano guadagnare socialmente e questo non succede perché ogni ogni azienda produce in modo separato in modo individuale dicevo che la l'idea è un po' lontana parte da lontano parte da quel meccanismo di riduzione della spesa pubblica è iniziata da da letta ma ancora prima dalla da berlusconi e l'idea strategica quindi della job act è questa uno far mutue a suon di incentivi due sostituire la sanità pubblica per liberare il suo capitolo di spesa che sono ben 113 miliardi 3 con i soldi liberati quindi con meno soldi che vengono elargiti per la sanità pubblica finanziale la riduzione del costo del lavoro quindi lavoro contro welfare come offrendo ai lavoratori la possibilità di scegliere o salario intero con mutua offerta dal datore del lavoro il lavoratore paga meno tasse perché prende meno salario mentre l'impresa può detrarre tutte le spese accrescendo il suo profitto geniale la situazione come funziona io qua in mano c'ho la trattativa di un grosso ente che di cui io lavoro e nelle organizzazioni sindacali che poi faranno che fanno parte di questo meccanismo perché sono loro che firmano i contratti di secondo livello cioè i contratti aziendali come funziona allora questo funziona che se il premio di partecipazione cosiddetto il salario di secondo livello e quindi qua anche attenzione perché in alcune aziende c'è il salario differito di secondo livello in altre aziende magari più piccoline non c'è neanche questo come funziona funziona che se come lavoratore tu vuoi tutto il premio di partecipazione partecipazione in tasca allora hai le detrazioni cioè hai una tassazione del 10% facciamo un esempio se il premio di partecipazione è 2000 euro tu hai il 10% e lo vuoi tutto hai il 10% di tassazione perché questo è previsto dal job act in modo tale che ci sia meno tassazione in questa parte di salario mentre se tu decidi come lavoratore scegli di avere un welfare che il welfare nel nostro caso si divide in due che è il welfare contratuale che per esempio assistenza sanitaria integrata previdenza complementare eccetera questo non viene tassato esempio quindi se il lavoratore decide che metà del premio di partecipazione perché è previsto così il massimo è metà metà del premio di partecipazione lo dai al welfare aziendale avrai solo la tassazione del 10% su quelle 1000 euro che ti arriveranno in tasca mentre sulle altre 1000 non avrai nessuna detrazione ma quei 1000 euro non li hai più in tasca li dai per questo welfare quindi il premio di partecipazione che fino a ieri erano soldi che ti entravano direttamente nelle tue tasche adesso ne rientra se decidi entra solo la metà quindi è una decurtazione del tuo salario netto non ci sono tanti fronzoli da fare e questo welfare riguarderà l'assistenza integrativa non solo l'azienda di cui io faccio parte perché per incentivare così viene detto per incentivare che i lavoratori adoperino questo welfare è disponibile è disposta anche a dare un 20% aggiuntivo di quello che ti aspetta per esempio sempre su cui 1000 euro che il lavoratore decide di destinare al welfare quindi all'assistenza integrativa gli da circa 200 euro attenzione però questi soldi devono essere a loro volta spesi entro un determinato periodo attenzione non sono soldi è l'azienda che fa contratti che fa accordi con le associazioni di medici con cliniche private in modo tale che per la tua prestazione ci siano totale questi 1000 euro però questi soldi del welfare per le aziende vanno ad essere detassate a costo zero in pratica quindi per le aziende conviene elargire questi questi servizi infatti dice i passaggi previsti dalla legge di stabilità del 2016 la legge 208 è ispirata alla job act dice punto 1 detassare i redditi delle imprese agendo sul cuneo fiscale modifica dell'articolo 51 del testo unico degli imposti sui redditi 2 detassare i premi di produttività attraverso i contratti collettivi di lavoro di secondo livello 3 erogare mutue a favore dei lavoratori in esercizione le contribuzioni e imposizione fiscale 4 escludere dalla base imponibile i costi delle mutue offerte dal datore di lavoro sulla base di accordi collettivi 5 dare il via libera alle mutue senza alcun limite di prestazioni non per integrare ma sostituire nel tempo la sanità pubblica quindi le mutue cosiddette di renzi non sono ciò che appaiono dal momento che so che non servono a tutelare la salute dei lavoratori ma sono uno stratagemma della job act per accrescere il reddito di impresa le conseguenze sul piano sociale sono disastrose perché i diritti come quello della salute diventano una derivazione dell'economia il diritto d'impresa si sostituisce all'articolo 32 della costituzione che parla proprio della che c'è il diritto della sanità e chi ha lavoro al massimo può ambire alla carità pubblica cioè una welfare residuale quindi addio welfare diamo qualche numero sulle mutue finora che ci sono nel 2014 erano 290 nel 2016 erano 305 e ad oggi dopo la legge di stabilità del 2016 e gli ultimi rinnovi contrattuali metallomeccanici compresi la prima impennata cioè in ora sono 360 mutue una stima ragionevole aggiornando i dati ufficiali disponibili con quelli relativi al prossimo rinnovo dei contratti del pubblico impiego 3 milioni di persone calcolando lavoratori e familiari è che siamo oltre i 15 milioni di persone con una doppia tutela quella pubblica e quella mutualistica ed è solo l'inizio di questa perché poi a mano a mano che la sanità privata prende piede avrà sempre più forza contrattuale e si andrà avanti così quindi da una parte avremo le famose mutue io mi ricordo mio padre che era un coltivatore diretto quando io stavo male e diceva sembia mia madre hai preso il libretto della mutua perché una volta c'erano una volta c'erano le mutue cioè ogni categoria aveva un determinato pagava una determinata quota per la sanità quindi chi adesso succede chi avrà lavoro e potrà pagarsi la mutua può avere questo welfare supplettivo per il momento ma sappiamo che nel tempo ci sarà l'obiettivo è quello di ridurre la quantità della spesa sanitaria che è di 113 miliardi chi invece non avrà lavoro dovrà accontentarsi della sanità pubblica che sarà appena appena da sopravvivenza quindi arriviamo a livello come fino a pochi anni fa noi sorridavamo e dicevamo per fortuna non siamo negli stati uniti che ti curano lì soltanto se hai l'assicurazione in tasca o altrimenti ti mandano a lasciatemelo passare a morire no nella sanità pubblica perché hai meno hai meno tutele meno servizi e via dicendo no dicevamo per fortuna questo non succede in in Italia beh stiamo andando verso quel stiamo andando verso quell'obiettivo e le mutue che non erano che erano in vigore fino agli anni 70 anche in Italia e le mutue sono associazioni che in cambio di una contribuzione assicurano ai loro iscritti ai loro familiari forme assistenziali e previdenziali in base a la disponibilità economica delle stesse quindi se hai soldi puoi far parte fai una mutua abbastanza ricca se ne hai tante va bene quella te li fai l'assicurazione privata e quindi se sei ricco puoi anche accedere alla salute di più non diventa più un diritto alla salute ma è una disponibilità economica le mutue sono finanziate dai contributi dei lavoratori dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro l'assistenza sanitaria diventa oggetto di trattative e accordi al momento della stipula del contratto di lavoro l'entità dei contributi varia in rapporto alla categoria di lavoratori e io inviterei chi ha un po di tempo e chi vuole un attimo informarsi nel web c'è una bellissima dispensa della università di ferrara che parla del diritto alla salute della storia e c'è proprio questa evoluzione di questo diritto alla salute e parla e c'è un capitolo proprio che riguarda le mutue e come funzionavano e come in realtà stiamo andando noi tutto perché l'obiettivo è quello di ridurre drasticamente il costo del lavoro come il lavoro non costasse già di per sé fatica ma siccome nella società capitalista tutto viene misurato in denaro nella legge del valore quindi questo ha un costo per questa società oggi invece i tempi sono maturi perché si possa passare da una società divisa monocellula di produzione dove tutto è impregnato nella quantità di produrre nel quanto produrre a una società dove c'è un progetto di produzione oggi attraverso la tecnologia siamo tutti collegati quando passiamo davanti alla cassiera del supermercato che passa il prodotto col codice a barre è vero che da una parte esce il costo di quella di quella merce ma dall'altra va a magazzino e dice a magazzino quanto prodotto c'è ancora in magazzino quindi se poi è tempo e ora di fare un altro di fare un altro ordine eccetera no quindi se tutti noi siamo collegati abbiamo c'è la possibilità di avere un progetto di produzione quanto si può produrre quanto si deve produrre in armonia con l'ambiente per l'uomo perché altrimenti come stiamo producendo adesso quella produrre per produrre stiamo distruggendo l'ambiente in cui viviamo quindi dicevo oggi i tempi sono maturi quindi tutte tutte quelle forme giuridiche che vietano questo per esempio la proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio vieta che ci sia questo collegamento questa rete di obiettivi perché poi il programma vuol dire già prevedere l'uomo alla diversità dell'ape che lo fa per natura la piccola cella per solo dna noi abbiamo la possibilità di prevedere abbiamo possibilità di programmare noi come specie umana bene questo non esiste ancora perché siamo ancora nella società del produrre una massa enorme di merci ma non per l'uomo per il mercato e il mercato conosce solo un compratore che è quello che ha denaro invece dobbiamo saltare pie pari questa cosa e andare a progettare una società diversa una società dove si produce attraverso un programma e la quantità che si produce è confacente ai bisogni dell'umanità in armonia con l'ambiente questo era il mio non è il mio obiettivo è un obiettivo storico del mondo del lavoro è un obiettivo storico che si pone anche la società bisogna prenderne atto e iniziare a ragionare con questo obiettivo altrimenti si può niente altro che prevedere una distruzione umana di come andiamo avanti non voglio fare allarmismo però la situazione è così per questa sera ho finito di parlarvi di uno di un problema che in questa settimana è apparso che è quella delle mutue e del welfare ciao a tutti grazie per l'attenzione ci vediamo la prossima puntata ciao ciao